Rosà ancora in prima linea nella lotta al gioco d'azzardo. Proprio il comune di Paolo Bordignon fu il primo anni fa a dare un giro di vite alle tante sale slot sorte sul territorio. Noi a Rosà abbiamo applicato nel 2015 un regolamento che è stato preso di base da tutta la conferenza sindaci del Bassanese dove abbiamo ristretto le aree dove possono sorgere nuove slot machine ma soprattutto abbiamo impedito, soprattutto nei raggi di 200 metri dai luoghi di cultura ma anche dalla chiesa, dai luoghi dove si fa sociale, dove non si possono ne fare. Rosà è stato anche il primo comune a limitare il numero di ore di apertura delle sale gioco consapevole della gravità che un problema come la ludopatia poteva arrecare ai propri cittadini. È un problema sociale importante, un problema che vogliamo come amministratori locali andare oltre a quelli che sono i regolamenti che abbiamo pubblicato ancora nel 2015 e abbiamo fatto un'ordinanza nel 2016 molto restrittiva. Nel senso tempo vogliamo far emergere questo problema perché è un problema veramente sociale. Per questo domani sera la sala consigliare del municipio ospiterà un convegno sul tema con numerosi esperti del settore e intanto Bordignon si sente di lanciare un messaggio anche al governo che entrerà in carica dopo il voto del 4 marzo. Credo che sia un aspetto importantissimo quello perlomeno di non fare pubblicità per quanto riguarda i giochi d'azzardo. Si capisce bene che per lo Stato è un introito non da poco però dobbiamo andare oltre a questo dobbiamo guardare soprattutto l'aspetto sociale e in particolar modo l'educativo dei nostri ragazzi.